Si vota il 12 ottobre e i consiglieri comunali di Gubbio, Gualdo, Tadino e dei comuni della fascia appenninica si giocano la possibilità di essere rappresentati nel nuovo Consiglio Provinciale. Anche l'ente perugino infatti sta andando verso la riorganizzazione. Addio alla vecchia composizione, si eleggerà un presidente ed un Consiglio di 12 scelti tutti tra i sindaci e tra i consiglieri comunali dei 59 comuni del territorio provinciale. Dunque via le candidature. Ecco che allora il sindaco di Gubbio Filippo Stirati scende in campo. La volontà, scrive oggi, è quella di rilanciare una discussione dei e nei territori per ridefinire il senso della nostra azione amministrativa e di far riprendere al centro-sinistra e alla sinistra un rinnovato slancio tale da farla uscire da contraddizioni e ritardi nella costruzione di una nuova visione della società Umbra e di una classe dirigente. È evidente, aggiunge Stirati, quanto sia opportuno che tutti i territori siano adeguatamente rappresentati così come nell'ambito del centro-sinistra siano presenti quelle componenti politico-culturali a carattere plurale che, unitamente al PD, contribuiscano ad una elaborazione politica e programmatica sensibile ai temi del lavoro, dello sviluppo, del riequilibrio infrastrutturale, dell'ambiente, delle criticità sociali e sanitarie, della cultura e dei beni culturali. Ora resta da vedere chi altro si candiderà a consigliere provinciale tra Gubbio e la fascia appenninica, da vedere anche Stirati in quale lista sarà candidato in appoggio a quale papabile presidente o quale candidato presidente accetterà la disponibilità del sindaco fuori uscito dal PD. E presciutti da Gualdo Tadino cosa farà? Il PD o Gubbino sceglierà una linea tutta cittadina o guarderà le scelte dei colleghi dei limitrofi comuni? Si vedrà, ma ormai il tempo stringe. Ma come funziona questa nuova fase elettorale? Tutti i sindaci di consiglieri comunali saranno chiamati ad esprimere due preferenze, una per il presidente, una per un consigliere, ma non potranno essere disgiunti. I candidati a presidente, infatti, dovranno essere supportati da una lista composta da un minimo di sei ad un massimo di dodici nomi. Il presidente resterà in carica quattro anni, i consiglieri due. Per la prima elezione potranno essere candidati i consiglieri provinciali uscenti. Il voto avrà valore ponderato, ovvero andrà in base alla popolazione dei singoli comuni.